Nella serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un ventenne di bellizi, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dell'accessione al dettaglio. Il giovane, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 involucri di cellofan termosaldato e una bussa per sottovuoto contenenti sostanza stupefacente, rilevatasi poi alle successive analisi della Polizia Scientifica di tipo cocaina per un peso complessivo pari a 110 grammi ed un bilancino elettronico. Pertanto il giovane, con precedenti stupefacenti, tentato omicidio, furto e recitazione, è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha ordinato la tradizione presso la casa circondariale di Salerno Forne.